non è successo con con amleto no e neanche è successo con giulietta romeo mi ingolfi il coramore no e ma anche è successo con favola c'era una volta una bambina e dico c'era perché adesso non c'è più no è successo con il don giovanni finalmente è uscito il testo dello spettacolo sì in ebook sì vai vai